La storia che vi voglio raccontare si svolge in Contrada Monte di Brienza in Basilicata, la bella Basilica. Vi dico solamente che Zio Angelo è un bel giovanottone della bella età di 84 anni. Daniele, tu nasci come musicista, arrangiatore e produttore. Come nasce il tuo rapporto con il cinema? Allora, il mio rapporto con il cinema diciamo che nasce perché mio padre è sempre stato un appassionato di macchine fotografiche, telecamere e cose del genere. E come al solito succede, uno prima rinnega e poi dopo ti accorgi invece di avere qualcosa nel DNA che ti avvicina a certe cose. E praticamente un po' alla volta ho capito che forse mi piaceva più fare queste cose che addirittura la musica. Però non è vero perché comunque continuo come musicista, sì, purtroppo sì. Per fortuna anche. Senti, com'è nata l'idea di realizzare questo film? Allora, l'ho detto già più volte, in realtà all'inizio era un cortometraggio perché insieme ad un altro sceneggiatore avevamo un'idea un po' più romantica. Cioè di questo vecchietto che di colpo vedeva cambiare l'orizzonte, cioè appunto queste paleoliche, si avviava per vedere che cosa c'era di diverso su queste montagne. Una volta che abbiamo trovato il vecchietto che appunto è Angelo Lopardo, ci siamo resi conto che era un peccato farne solo un cortometraggio. E quindi mi sono rimesso sotto e ho scritto una sceneggiatura più lunga, ho coinvolto tanti amici ed ecco che abbiamo fatto Zio Angelo ai tempi moderni. Bene. Cosa pensi del territorio, avendolo vissuto nelle realizzazioni di questo film? Come valuti i cambiamenti dal presente al passato? Allora, i cambiamenti dal presente al passato purtroppo ci sono e secondo me a volte, cioè lo dico con rammarico, mi piaceva forse un po' più il passato. Sarà perché sono un po' romantico, sarà perché rispetto il passato. Questo film infatti perciò mette anche un po' in evidenza quello che è il presente del nostro territorio. E all'interno del film appunto c'è un messaggio, cioè quello che ci auguriamo che i tempi futuri possano essere un po' più in armonia con quelli passati. Questo. Tu sei stato anche autore e compositore della colonna sonora, essendo musicista. Cosa ci sei ispirato principalmente? Allora, chiaramente sì. Diciamo che, dato che sono musicista, a volte lavoro al contrario. Cioè faccio prima un pezzo, cioè creo prima la colonna sonora e poi vado a girare le scene su quel pezzo. Perché mi dà un senso diverso, ecco, girarle sopra. Diciamo che tutta la colonna sonora, per esempio, il principio che è stato usato è quello appunto di strumenti, tra virgolette, mediterranei. Ci stanno le chitarre acustiche, un sacco di chitarre acustiche. Ci sta la fisarmonica, batteria per esempio non ce ne sta proprio. Cioè quindi suoni ritmici molto importanti, assolutamente non ce ne sono. Proprio perché volevo sottolineare anche la nostra cultura. Quindi perché è un film su un vecchietto e tra virgolette mi piaceva riuscire a fare una colonna sonora che accompagnasse bene questo viaggio. Ecco. Noi abbiamo scelto Zio Angelo un po' per caso perché è lo zio di un mio carissimo amico. Però, sempre, certe volte è strano, ci siamo accorti che Zio Angelo nel suo passato aveva fatto già delle cose importanti. Cioè Zio Angelo non è un normale vecchietto. Cioè un qualcosa in più ce l'ha. Nel vedere quello che abbiamo girato penso che tutti se ne accorgono. Infatti se abbiamo vinto il premio Rossellini probabilmente è grazie proprio alla recitazione di Zio Angelo. Ehm, sappi, mi ha lavato i giorni ancora al luogo così. Ma chi stai aspettando? Azzurro da... Azzurro da...